Crowdfunding. Non abbiamo parlato troppo su questo canale, però è sicuramente un'innovazione nel mondo degli investimenti che sta prendendo molto piede e sono nate tantissime piattaforme di crowdfunding negli ultimi anni. In questo video voglio approfondire il tema del crowdfunding, farti capire i rischi e le opportunità e soprattutto a chi è più adatto, se ad un piccolo investitore, ad un grande investitore. Insomma, entriamo nel mondo del crowdfunding e verifichiamo se è davvero un'opportunità di investimento per i tuoi soldi. Iniziamo. Benvenuto in questo nuovo video, sono Giorgio Pecorari, investitore, imprenditore e fondatore di Piano Finanziario. In questo video approfondiamo il tema del crowdfunding e visto che parleremo di crowdfunding prevalentemente in campo immobiliare, il mio lato di investitore immobiliare è particolarmente importante perché ho un'esperienza diretta nell'investimento in immobili. In questo momento gestiamo un portafoglio di immobili con attività di trading che ha una valorizzazione complessiva di circa un milione e mezzo di euro con immobili nella provincia di Modena prevalentemente. Quindi mi sento di avere qualcosa a dire in prima persona come investitore nel mondo immobiliare quando si parla di crowdfunding immobiliare. Al di là dei nostri percorsi, al di là dell'esperienza di Piano Finanziario e del nostro portale di formazione. Siamo investitori in prima persona. Questo è quello che ci contraddistingue e ci differenzia invece da chi parla di investimenti ma poi non si capisce esattamente se ne parla e basta o li fa anche. Noi siamo investitori a tempo pieno. Ad oggi appunto il patrimonio investito è quello che dicevo prima, siamo a cavallo del milione e mezzo circa. Fate queste opportune premesse, parliamo di crowdfunding. Che cos'è il crowdfunding? Ok, crowd sta per folla. Funding sta per prestare denaro. Quindi una folla, una massa di persone che pressa denaro per una determinata iniziativa. Esistono due tipologie di crowdfunding principalmente. Equity e lending. Equity significa che tu stai dando denaro ad una determinata società e questo denaro entra nel capitale sociale della società. Quindi diventi azionista. Analogamente a come diventi azionista se compri un'azione Ferrari o Apple. Ok? Lending significa invece che tu stai prestando denaro a questa società magari per 9, 12, 18 mesi. Queste sono le tempistiche tipiche di un'operazione di crowdfunding. Denaro che viene appunto prestato alla società per una determinata finalità. Magari un'operazione immobiliare. Quindi questa società prende un immobile grazie anche ai capitali che riceve dal crowdfunding. Lo acquisisce, lo ristruttura e lo rimette sul mercato marginando sul valore raggiunto che ha dato all'immobile. Negli ultimi anni le piattaforme di crowdfunding si sono diffuse enormemente. La maggior parte delle piattaforme sono lending, crowdfunding, quindi sono piattaforme nelle quali presti denaro. Denaro che dopo 9, 12 mesi quella che è la durata dell'investimento ti viene restituito. Solo una minoranza sono di equity, quindi dove il tuo capitale ti permette di diventare azionista. Sono la minoranza perché è un po' più complesso il meccanismo quando diventi socio. Questo video non ha alcun tipo di sponsorizzazione, ok? Noi siamo indipendenti, siamo investitori, riceviamo quotidianamente richieste di affiliazione da piattaforme di crowdfunding che ci dicono ti va di ricevere una provvigione, un compenso se fai un video parlando bene di questa piattaforma. Noi non lo facciamo perché siamo investitori, perché abbiamo un portale in cui diamo informazioni nell'esclusivo interesse dei nostri iscritti, quindi non ci vendiamo con questo genere di iniziative, vogliamo essere sopra qualunque tipo di conflitto di interesse. Questo è importante per te quando vai a cercare online informazioni su una piattaforma rispetto ad un'altra. Verifica sempre in che termini ne sta parlando e verifica che non ci sia sotto un giro di promozione che non riesci a vedere ma c'è. Chiuso a parentesi. Quindi le piattaforme di crowdfunding in Italia stanno diventando sempre più importanti, più grandi e raccolgono sempre più capitale e lo vediamo dalla crescita dei capitali raccolti. Da un anno all'anno successivo vediamo crescita dal 50 al 100%. È proprio una crescita esponenziale. Questa crescita è sicuramente spinta dall'attuale contesto di investimento. Se prendiamo la componente obbligazionaria è molto difficile trovare rendimento nei titoli di Stato. Cioè è difficile, è praticamente impossibile. Ci sono rendimenti nominali prossimi allo zero. Se aggiungiamo anche l'incidenza di tasse, inflazione e costi per poter comprare questo strumento arriviamo a rendimenti negativi. Quindi l'investitore alla ricerca di rendimento le piattaforme di crowdfunding danno un rendimento sopra la media e adesso discutiamo quali sono i contro e quindi sicuramente hanno catturato particolarmente l'attenzione degli investitori. Quindi sicuramente tra i pro ci sono le opportunità di guadagno, ok? Avere dei rendimenti dell'8, 9, 10% dipende dalla durata dell'operazione. Contro quali sono? Dobbiamo capire a chi stiamo prestando denaro. Quindi la piattaforma di crowdfunding solitamente si pone come garante non tanto perché offre una vera garanzia perché tu stai a tutti gli effetti finanziando l'azienda, ok? La Mario Rossi SRL che si finanzia tramite la piattaforma di crowdfunding. Fa garante nel senso che verifica la documentazione, il business plan, il conto economico, lo stato patrimoniale di questa società e dice ok questa società è finanziabile. Magari dà anche un rating alla società in questione e riesce ad attribuire a fronte di un rendimento potenziale anche un possibile rischio del prestito. Quindi in due parole qual è il rischio associato a questa iniziativa di investimento? Beh il rischio in solvenza della società che stai andando a finanziare. Potrebbe fallire, potrebbe restituirti parte del capitale, restituirtelo in ritardo e dal momento che magari stai finanziando una piccola media impresa, non lo so, una società che non è particolarmente capitalizzata, che magari ha due anni di storico, anzi magari non ha ancora depositato il primo bilancio, non ha un rating, chiaramente non è quotata. Quindi una volta che hai questo titolo di credito non riesci a scambiarlo nuovamente sul mercato. Chiaramente tutti questi elementi, queste componenti di rischio fanno sì che il rendimento debba essere più alto. Quindi parti dal presupposto che nel mondo degli investimenti non esiste un pasto gratis. In inglese la frase è there's no free lunch at Wall Street. Non esiste un pasto gratis a Wall Street. Significa che se vuoi del rendimento ti devi prendere del rischio e se vedi del rendimento ma non vedi il rischio sei tu che non lo vedi non vuol dire che non ci sia. Ok questo è il caso del crowdfunding. Chiaramente è qualcosa che comunque se studiato, se approfondito, offre delle reali opportunità. Ma dobbiamo essere un po' analitici, non dobbiamo innamorarci della tipologia di investimento senza essere in grado di valutare gli effettivi rischi associati. Quindi abbiamo discusso delle opportunità e dei rischi associati al crowdfunding. C'è un altro tema molto importante associato al crowdfunding di cui non parla nessuno. E adesso entriamo nel vivo della questione. Ho dovuto fare questo preambolo per spiegarti un po' le basi del crowdfunding. È il tema della possibilità di investire in operazioni di crowdfunding. Questa grandissima ricerca di rendimento che c'è in questo momento si scontra con le opportunità di investimento perché una piattaforma di crowdfunding che cosa fa in due parole? Fa incontrare la domanda di rendimento che io ho dei capitali voglio investirli quindi eccoli qua con l'offerta di guadagno, l'offerta in termini di opportunità immobiliari che permettano a questo capitale di rivalutarsi. Quindi la piattaforma di crowdfunding fa unire la domanda e l'offerta. In questo momento ci sono molti più capitali delle operazioni che sono in circolazione, delle operazioni che hanno bisogno di un finanziamento. È un po' il nostro caso come investitori nella zona di Modena. Avremo capitali per superare i 2 milioni di euro ma non abbiamo abbastanza operazioni. Quindi tra parentesi se sei un agente immobiliare che operi raggio 100 chilometri da Modena. Se sei un consulente immobiliare fai operazioni immobiliari contattaci perché stiamo cercando dei partner per operazioni. Chiusa questa seconda parentesi. Questo è un grosso problema nelle piattaforme di crowdfunding perché? Perché succede che magari tu vuoi investire 10 mila euro in un paio di operazioni in crowdfunding, ti sei messo il pro memoria che il primo di luglio c'è un'operazione in crowdfunding, sei lì pronto a spingere investi, l'operazione di crowdfunding viene finanziata in 50 secondi. Quindi non hai delle opportunità reali di poter investire in quella operazione immobiliare. Questo è un grosso problema. È un problema per chi? È un problema per chi ha grandi capitali da investire. Ipotizziamo tu abbia un patrimonio di mezzo milione di euro e hai deciso di destinarne 50-70 mila all'investimento in crowdfunding. Ok? I tuoi 50-70 mila anche se le frazioni su più operazioni sono difficilmente investibili con l'attuale offerta di operazioni immobiliari, prevalentemente il crowdfunding è relativo a operazioni immobiliari, operazioni che puoi trovare sulle piattaforme. Nel senso che ti troveresti lì a voler investire magari 4 mila euro su un'operazione ma ne riesci a investire solo 2 mila. C'è un grosso problema pratico proprio di riuscire ad investire in queste opportunità. Magari le vedi sui siti, ok? Operazione 9 mesi, 9% o 10%, poi quando vuoi investire, volevi investirci 5 mila euro e riesci a investirne solo 2 mila. Ok? Questo è un grosso problema. Problema che però non ha grandi soluzioni di breve periodo. Quindi crowdfunding è sicuramente un'opportunità di investimento ma per chi ha piccoli capitali. Se uno guarda anche come viene finanziato un determinato progetto all'interno di una piattaforma di crowdfunding vede che magari la richiesta è di 100 mila euro e ci sono 50 investitori. Quindi vuol dire che la media è 2 mila euro di investimento ad investitore. E ci sta perché questo è anche nell'ottica del crowdfunding, cioè perfettamente coerente con la missione del crowdfunding, che è quella di avere una massa di persone, tante persone, 50 investitori, che finanziano un progetto, finanziano 100 mila euro per un'operazione immobiliare. Il problema si verifica quando magari tu vuoi investire, come dicevo prima, 50-70 mila euro all'interno di una piattaforma o più piattaforme di crowdfunding. Perché? Perché appunto non riesci ad investirvi. Quindi l'idea per questo video ci è venuta guardando un po' cosa dicono online anche certi formatori che magari hanno un conflitto di interesse nel parlare di certi temi perché hanno delle piattaforme di crowdfunding che definiscono il crowdfunding come uno strumento di investimento per ricchi, per persone abbienti, cioè che magari investono 50-70 mila euro. La nostra esperienza personale è che è molto difficile per chi ha capacità di investire nel crowdfunding cifre importanti, 50-70-100 mila euro, riuscire a trovare le operazioni. Cioè c'è la domanda di rendimento da parte di capitali ma mancano le operazioni e quindi non c'è questo incrocio della domanda e dell'offerta. Questi meccanismi, come dicevo bene, noi li conosciamo molto bene perché chiaramente per poter fare operazioni di queste entità, appunto siamo a un milione e mezzo di euro, abbiamo sei cantire aperte in questo momento, abbiamo una serie di investitori che partecipano a queste operazioni e chiaramente sono investitori che magari collaborano con noi perché non riescono ad accedere a piattaforme di crowdfunding, quindi dicono guarda Giorgio abbiamo 50 mila euro, vogliamo partecipare a questa operazione, bene, partecipano con 50 mila euro. Cioè avremmo potuto finanziarli con piattaforme di crowdfunding ma è molto meglio lavorare proprio su un'altra tipologia di investitore, non il taglio 2000 euro per operazione ma c'è un limite minimo per poter partecipare alle nostre operazioni che è di 30 mila euro. Quindi con questo video ti ho voluto portare dietro le quinte del crowdfunding immobiliare facendoti vedere quella prospettiva unica che è fondamentalmente la nostra, facciamo operazioni, abbiamo degli investitori nelle nostre operazioni e possiamo accedere a capitali in modi diversi, ok? Appunto con contratti di associazione in partecipazione che è lo strumento che utilizziamo con i nostri investitori oppure con le banche oppure magari un domani anche con una piattaforma di crowdfunding. Quindi un imprenditore che opera nel settore immobiliare deve poter padroneggiare tutti questi strumenti per poter finanziare le operazioni. Ma da parte tua, che sei appunto dall'altra parte, cioè magari hai del capitale che vuoi investire a chi? A imprenditori immobiliari come potrei essere io. Devi essere consapevole appunto che stai diversificando il rischio perché magari in questa operazione siete in 50 e avete un rischio equivalente per 2000 euro a testa. Ma tu volessi crescere come capitale investito difficilmente stando all'attuale offerta di operazioni sulle piattaforme di crowdfunding riesci a crescere con il patrimonio investibile perché appunto c'è una forte carenza di operazioni. Quindi stai attento quando c'è qualcuno là fuori che parla di crowdfunding come un investimento per ricchi e l'abbiamo visto là fuori, questa è la ragione per cui abbiamo fatto questo video, che questo è un po' uno specchietto per le allodole. Nel senso che chi ha grandi capitali difficilmente uno riesce ad accedere a queste operazioni, due magari vuole investirli in prima persona, ok? Quindi senza intermediari, quindi va direttamente dalla società immobiliare che fa operazioni, un po' come succede con noi. Questo sia per ragioni pratiche perché non riesce ad investire nel crowdfunding, sia perché magari non vuole avere un intermediario, non vuole avere la piattaforma di crowdfunding, ma vuole parlare direttamente con l'imprenditore perché lo conosce, perché si fida eccetera. Oppure un'altra opzione possibile per chi ha già capitali ingenti, quindi i famosi ricchi di questo video che abbiamo visto online, mettono i loro capitali a disposizione di una società che opera nel settore immobiliare e poi magari ne raccolgono degli altri per aumentare l'esposizione complessiva in quel determinato mercato. Questi concetti, queste informazioni purtroppo non te le può dire nessuno là fuori perché ne sono molto poche le persone che hanno un'esperienza diretta di questa entità, ok? Che iniziano a investire qualche milione in operazioni immobiliari e hanno anche l'onestà intellettuale perché non hanno una piattaforma di crowdfunding di dirti le cose come stanno. Fammi sapere quali sono le tue riflessioni nei commenti, se utilizzi piattaforme di crowdfunding, se hai notato i limiti di cui ti ho parlato in questo video o se magari hai avuto possibilità di accedere a investitori, imprenditori immobiliari come io e i miei soci e fare direttamente delle operazioni immobiliari senza passare da un intermediario. Attendo un tuo commento, con questo è tutto, ci vediamo in un altro video, ciao! Questa è la nuova sezione scopri all'interno di pianofinanziario.it, video esclusivi selezionati in base alle tue preferenze, sondaggi per verificare la tua situazione finanziaria, quiz per controllare se hai compreso i contenuti più importanti della lezione. Questo e tanto altro nella nuova sezione gratuita all'interno di Piano Finanziario. Iscriviti ora su www.pianofinanziario.it